Salve a tutti, sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video. Oggi sto vicino alla batteria ma non c'entra niente con questo video con la batteria. Vabbè, mo mi son messo per ora qua e poi mi alzo. Questo è un video perché oggi è domenica. Lo scorso sabato avevo detto che facevo un contest sulla maglietta che regalavo. Però regalavo solo a chi scriveva hashtag partecipo, poi lo mettevo su un'app e facevo il sorteggio e chi usciva gli regalava questa maglietta, questa, guardate, questa qua, pulita ovviamente. E oggi vedremo chi è il fortunato con questa app diciamo. Allora, prima di iniziare però devo dire grazie perché siete stati in tanti a commentare e a dire hashtag partecipo e a iscriversi al canale, grazie. Ma ora vediamo chi è il fortunato. Allora, 3, 2, 1, clicchiamo O, scusate per la pronuncia, watch game. Questo è il fortunato, guardate, non lo conosco ovviamente, guardate, io non l'ho fatto a caso, questo è il fortunato. E allora, questo qua, watch game, non so come si pronuncia, scusa se come lo pronuncio, lo salutiamo, va bene? E questo è pregato, se vuole la maglia, di scrivermi su Facebook privato, Alexis Biondo, da dove viene e se sei per esempio di Benevento ci possiamo pure incontrare, ad esempio, in mezzo a Corso, a Piazza Roma. Ho fatto un esempio. Se per esempio sei fuori di Benevento te la spedisco, però mi devi mandare ovviamente la tua email, dove abiti, mi devi mandare, così te la posso spedire. Allora, questo è il fortunato, ve lo facciamo rivedere, complimenti a questo ragazzo, credo, non lo conosco, non lo conosco, questo, vabbè, each game, credo che si pronuncia così. Ok ragazzi, questo quindi è il gran fortunato. Spero che ti piace questa maglietta, ma credo di sì, se no non lo scrivevi, hashtag participo, eccola qua. Ok ragazzi, per questo video può finire qua, vi ricordo, pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Come vi ho fatto vedere, non ho fatto a caso le preferenze, ma ho cliccato questo, nonostante è uscito questo. Ovviamente ho messo tutti i commenti dell'hashtag participo. Ok, devo andare alla prossima volta con Alex, il biondo, ciao!